Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di domotica, non è finita la serie, anzi, guardate chi sbuca? Questa è Alexa. Sì, l'ultima volta abbiamo parlato di Google Home, dobbiamo parlare di Alexa con un plot twist. Oggi vi spiego come integrare Alexa in maniera super semplice, magari non completissima, ma vedrete che in un attimo abbiamo fatto tutto. L'inquadratura di inizio video è larga, giusto per mostrarvi le novità dello studio. La settimana scorsa non è uscita domotica, ma ho lavorato a un po' di cose domotiche. Tipo, vabbè, oltre ad appendere l'aereo, in realtà ho anche messo tutti dei led attorno all'aereo, che adesso non sono ancora accesi. Ho messo dei led qua sotto al bror, che non andranno in modalità RGB, così a caso, promesso, era solo per mostrarveli. Sono bruttissimi così. Ho messo led sull'emissione lancima, che non sono accesi perché vanno assieme a quelli dell'aereo. E tutto quanto con essere wifi, insomma, c'è un sacco di roba domotica, ma tanto poi queste qua le vedrete in altri video. Stringiamo un pello in inquadratura e mettiamoci al lavoro, però manca comunque il mobile qua, c'è un buco bruttissimo. Comunque, noi siamo qui per parlare di Home Assistant e di Home Assistant parleremo. Eccoci qua sulla nostra interfaccia. Anzi, parlare di Alexa, in realtà. Perché? Ci sono tre modi per integrare Alexa. Come tre modi per integrare Google Home? Nello scorso video ve ne ho nominato uno e spiegato un altro, ma in realtà c'era un terzo modo per Google Home. Per Alexa è uguale. C'è il metodo vado nelle impostazioni, pago 4 euro al mese e non ci penso più perché fa tutto da solo. E va bene, se volete pagare potete farlo. Ed è super facile, vi integra i comandi vocali, Google, Alexa, vi risparmia perfino di configurare da DNS. Fa tutto quanto da solo, ma noi non vogliamo pagare, quindi quello là ve lo nomino solo. C'è il metodo vado sul sito di Google, come nello scorso episodio. Sulle Google API vado a crearmi una nuova API, una nuova applicazione, Google Cloud, metto tutte le configurazioni, l'APQ e le cose varie. E questo ci sarebbe anche per Alexa, ma è addirittura più complicato di Google. Cioè, avete presente che lo scorso episodio è durato tipo 25 minuti per spiegare come configurare Google. Ecco, Alexa è molto molto più complicata. Sicuramente lo vedremo anche il metodo complicato in un futuro video perché è più completo. È sicuramente più completo. Alexa, tra l'altro, può fare più cose che non Google Home. Tipo, le puoi anche chiedere lo stato dei dispositivi. Qua mi fanno l'esempio, Alexa, la porta del garage è aperta? E se la porta è smart, Alexa può vedere lo stato del sensore e quindi sa anche comunicare lo stato dei dispositivi. Termostato, imposta il termostato su freddo. Insomma, è addirittura meglio integrata che non Google Home con Home Assistant. E può fare veramente un boto di robe che nel metodo che vediamo oggi non farà. Però giusto per mostrarvi quanto complicato sia il processo, qua posso scrollare letteralmente per 2-3 minuti ed è tutta la guida su come configurare sta roba che vedremo in un video, promesso, però la situazione è abbastanza complicata. Invece nel video di oggi vedremo un metodo molto molto semplice che è il Hue Emulated Hub. Praticamente come funziona? Funziona che Home Assistant si finge un hub di Philips Hue. Avete presente le lampadine Philips Hue? Sono quelle che io ho in tutta la casa, ma non dovete per forza averle. Anzi, non c'entrano assolutamente niente con questo tutorial, se non che appunto il nostro Home Assistant fa finta di essere un Hue Bridge e racconta ad Alexa o anche a Google, perché questo metodo funziona con entrambi, molte delle componenti della nostra domotica, quelle compatibili, come se fossero delle lampadine della Philips Hue. E in questa maniera è veramente facilissimo da configurare, perché dobbiamo fare tutto da Home Assistant, allora non dobbiamo dirgli niente, se non vai a collegarti a un nuovo hub UE che vedi qua in rete locale. Certo, fingendo che tutti i dispositivi siano lampadine, si può fare molto, ma non tutto. Per controllare lampadine e luci non c'è nessun problema. Posso anche far finta che tutte le scene che io ho nel mio Home Assistant siano delle luci. Ok, mi si è appena scaricata la fotocamera e ho perso mezz'ora di registrazione. Dicevamo, si possono esporre le scene, e quindi se ho ad esempio una scena film nel mio Home Assistant, e la scena film è di spegnere questo lampadario, di accendere la luce lì, e anche il proiettore, insomma le cose da film, io posso dire ad Alexa, Alexa accendi film. Lei è convinta che film sia una lampadina, ma tanto dopo quando manda la richiesta a Home Assistant, Home Assistant sa che è una scena e deve attivare quella scena. Posso esporre media player, ventilatori, condizionatori, deumidificatori, come se fossero delle lampadine. Tanto che me ne frega che Alexa pensa che siano lampadine. Quando dico Alexa imposta ventilatore al 50%, anche se Alexa è convinta che sia una lampadina dimmabile e che stia impostando al 50% dell'umidicità, a me non me ne frega niente, l'importante è che il mio ventilatore vada al 50%. Idemo con i media player, Alexa imposta casse al 65%, mi mette il volume delle casse al 65%. Quindi ci può fare veramente tantissimo. Cosa non si può fare? Non si può fare che Alexa legga lo stato dei sensori. O almeno sensori banali, tipo se la famosa porta del garage è aperta oppure no. Secondo me gli si può esporre la porta del garage come fosse una lampadina e chiederle se è accesa. Non è bellissimo chiedere se è accesa la porta del garage, però tecnicamente funziona. Quello che non si può fare è una cosa fighissima di Alexa, che è il fatto di farsi i fatti degli altri. Alexa a differenza di Google sa farsi i fatti degli altri, sa autonomamente andare a leggere lo stato di sensori e fare delle automazioni e fare delle cose. Si configurano queste rutine dall'applicazione Alexa. E quindi con l'integrazione, quella completa, quella lunghissima da implementare di Alexa, si potrebbero fare delle cose più profondamente integrate. Tipo che se vede lo stato di una roba che è così, allora lei attacca Amazon Music, attacca Spotify, attacca della musica, ma autonomamente. Perché è lei che si è andata a interessare di vedere lo stato di un dispositivo e fare altre cose. Questo non si può fare, ma noi per oggi, per questo primo tutorial, siamo più che contenti lo stesso. Allora andiamo sul nostro Home Assistant subitissimo. E come si fa a configurare, vedrete, è istantaneamente super semplicissimo. Non dobbiamo installarlo perché è già installato, dobbiamo semplicemente dire a Home Assistant di usare questo componente, che è già inserito, è già integrato, è già installato, tutto quanto pronto. Quindi facciamo una corsa nel nostro Visual Studio Code. Ormai siamo al quindicesimo episodio, quanto siamo? Possiamo permetterci di mettere mano al codice un po' più spesso. Che poi i codici sono solo delle liste di roba. Mi faccio uno spaziettino e vado semplicemente a scrivere emulated, trattino basso, hue, due punti, a capo. E l'unico altro parametro che mi serve obbligatoriamente configurare è listenport, due punti, la porta 80. Perché sia Alexa sia Google funzionano solo con la porta 80. Molto bene, e già qui potremmo aver finito. Vogliamo fare qualcosa di più però, perché di default, se non specifichiamo a Home Assistant expose the domains, come abbiamo già fatto per Google Assistant nello scorso episodio, Quello di default espone tutto, racconta tutto ad Alexa. Cioè trasforma in finte lampadine, sia le nostre lampadine, quindi il dominio light di Home Assistant, sia tutti gli interruttori, che sono il dominio switch, ma anche il dominio fan, quindi le ventole, anche il dominio umidifier, quindi gli umidificatori, e il dominio media player, e gli script, e gli interruttori binari, un bot di roba che forse è inutile, diventa troppa roba per Alexa. Soprattutto perché se le arrivano troppi dispositivi in un colpo solo non ne mostra nessuno, per qualche ragione. Quindi per ora andremo proprio a copiare il nostro expose the domains da Google Assistant da qua, e per ora vado a raccontare ad Alexa solo le luci e gli interruttori. Tanto media player per ora non ne ho in casa mia. Se avete qualche media player potete tranquillamente fare qua, invio, trattino, e qua Home Assistant vi consiglia roba, e potete andare a scegliere media player, oppure i sensori binari, oppure il deumidificatore che avete, quello che volete. Io per ora faccio solo luci e interruttori. Qualche altro parametro facoltativo ma utile? Ad esempio, expose by default. Cosa vuol dire? Vuol dire se all'interno del dominio luci deve automaticamente espormi tutte le luci, cioè deve prendere tutti i dispositivi del dominio luce che esistono su Home Assistant, e raccontarli ad Alexa, oppure se voglio scegliere io solo alcuni pochi da raccontarle. expose by default? Di default, scusate l'autologia, è vero. Quindi di default va a raccontare tutti i dispositivi all'interno dei domini che abbiamo scelto ad Alexa. E in realtà mi può andare bene così. Tutte le luci e tutti gli interruttori, va benissimo. L'altra cosa facoltativa ma comoda, che però diventa obbligatoria se avete messo expose by default a falso, sono le entities, cioè le entità. Entità due punti, andiamo a caporiga, e qui possiamo fare tutta una lista di entità per scegliere delle impostazioni aggiuntive. Ad esempio, comunque qua appena scrivo qualcosa ho già tutti i suggerimenti, quindi è molto molto facile compilare. Però ad esempio, tu... Eccolo qua, light.studio, che sono i miei pannelli RGB, quelli che sono lì sul muro. Anche qua metto due punti perché è un ulteriore sottolista, è un ulteriore sottocategoria. Light.studio, se vado a capo, posso ad esempio impostare name, due punti, pannelli, leaf. E quindi scegliere un nome diverso da quello che uso in Home Assistant da raccontare ad Alexa, per qualsiasi ragione. La lampadina della camera, volete chiamarla lampadina comodino, non lo so. Insomma, potete qua nella lista di entità, potete proprio fare una lista di alcune entità che volete personalizzare ulteriormente, e ad esempio andarne a personalizzare il nome, volendo. Oppure, l'altra cosa molto importante, sempre come personalizzazione di un'entità, è hidden, due punti, e qui va o true o false. Quindi, true, nascosto, due punti, vero. Quindi questi pannelli leaf, in questo caso non ha nemmeno senso specificare un nome diverso, ma comunque questi pannelli leaf non verranno raccontati ad Alexa. Quindi anche se abbiamo exposed by default uguale a true, cioè racconta tutto quello che vuoi ad Alexa, alcune cose possiamo comunque non raccontagliele. Invece, come potete intuire, diventa obbligatorio, chiaramente al contrario, se avevate messo exposed by default false, se avete messo di default non raccontare niente ad Alexa, ecco che poi dobbiamo andare a fare una piccola lista di dispositivi nei quali mettiamo hidden uguale false, quindi nascosto uguale falso. Cioè, nascondi tutto quanto ad Alexa, non raccontare niente, tranne quelli che ti mettono nella lista, e ti metto magari anche un nome personalizzato, ma sicuramente ti metto che non sono nascosti, perché questi sono quelli che voglio andare a raccontare. Nel nostro caso non ci serve, perché non avevo impostato quel parametro aggiuntivo, exposed by default uguale false. Quindi va bene, oh, lasciamo anche il nome personalizzato, però mettiamoci due L, perché pannelli con una L è proprio brutto. Vado a fare Command S, Control S se siete su Windows, insomma, salvate il file, se no si può andare anche da qui, file, salva, hopla. Andiamo nel dubbio a riavviare, e dopo qualche tentativo infruttuoso ho scoperto quale fosse il problema, ragazzi, ci manca un piccolo step che dobbiamo fare solo nel nostro caso. Ora scoprite perché. Facciamo una corsa un attimo nel Supervisor, qui. Andiamo su Nginx, Home Automation, SSL Proxy, cose varie. E andiamo sulla configurazione del plugin Nginx, che vi ricordate abbiamo installato qualche episodio fa, ma dobbiamo disattivargli la porta 80. Qui voi avrete sicuramente scritto 80, dovete semplicemente cancellarla, poi venire qua e premere salva. Vi chiederà sicuramente di riavviare il componente per applicare le modifiche, perché il problema è che se sulla porta 80 del Raspberry c'è Nginx, non ci può essere Philips, Sue, Emulator, cose varie. Cioè, chiaramente sulla porta 80 ce ne sta solo uno dei due. Quindi spegniamo Nginx sulla 80, che tanto ci interessava principalmente sulla 443, e avremo la 80 libera per essere vista da Alexa, e vedremo che adesso funziona. Allora, abbiamo bisogno di qua dei rinforzi perché le Alexa di casa sono collegate al suo account. Ha semplicemente fatto una ricerca di Philips, Sue, dell'applicazione Alexa, e ha trovato 31 dispositivi trovati e connessi. Tra l'altro, nella lista ho visto che mette anche i dispositivi che ho configurato solo su Home Assistant, tipo la strisciona, che è la striscia LED là sotto, tipo i nostri Shelly, ah guarda qua, Shelly Switch, insomma, siamo sicuri che sia Home Assistant, sono off, robe che non ho mai connesso ad Alexa. Quindi effettivamente ha trovato la roba, ok, bisogna scegliere lì uno alla volta però adesso, si chiama, ah, pannelli Leafex, pannelli Leafex che non sono attualmente connessi ad Alexa. Ok, quindi in teoria, Alexa spegni i pannelli Leafex, non capirà mai. Uh, l'ha capito! Ragazzi, questo qua, attraverso Home Assistant, che sta facendo finta di essere un hub Philips, Sue, e Alexa accendi i pannelli Leafex, che top, ok, Alexa imposta pannelli Leafex al 20%, ecco, grazie, ti ringrazio Alexa, un po' violenta, poteva fare un minimo di transizione ma figo, ok, 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 quindi abbiamo tutti i nostri dispositivi di Home Assistant integrati nella domotica. Ragazzi, abbiamo il nostro Home Assistant integrato in Alexa in due righe di codice, grazie mille per un telefono... Per un rege telefono. Quindi vi direi, pollice in su, ovviamente, se il video vi è piaciuto, non so se d'ora in poi domotica uscirà tutte le singole settimane, però comunque la serie continua, in realtà probabilmente sì, la prossima settimana uscirà domotica, comunque pollice in su nel dubbio per farmi capire che questa serie ancora vi piace, anche se le visualizzazioni fisiologicamente stanno andando un po' in calo, però dovete farmi capire che questa serie ancora vi piace. Per questo video è tutto, condividetela anche con vostri amici questa serie, così contribuiamo a mantenerla viva. Per questo video è tutto, ciao a tutti!